Ciao a tutti, oggi farò due recensioni di due libri. Uno è Le Belve di Manio Castagna e l'altro è La Felicità ai miei piedi di Marika Ciaccia. Sono due libri totalmente diversi tra loro. Scusate se sentirete camion o macchine passare, ma ho la stanza di fronte alla strada. Allora, parto con Le Belve, dove troviamo un gruppo di 21 ragazzi del liceo che vanno a visitare l'ex sanatorio Boeri. Una volta arrivati lì e una volta entrati in questo ex sanatorio, si ritrovano a contatto con tre banditi senza un piano, dove li prendono come ostaggi e da lì inizieranno a succedere strane cose, perché il Boeri nasconde delle storie maledette, sepolte tra i muri, e da lì all'inizio loro non ci fanno tanto caso, ma alla fine si scopre che ci sono delle presenze sovranaturali e da lì devono sopravvivere e inizieranno anche a percorrere un tunnel sotterraneo per uscire da tutto ciò, ma alla fine alcuni si perdono e ci saranno anche delle perdite. e questo libro è un horror suspense e possono leggerlo dai 14 anni in su. Ha una copertina molto bella, mi piace perché è nera e le scritte sono di un verde fosfoscente, non so se si vede tanto, fatto così, e all'interno all'inizio così, e alla fine così. Poi, l'altro libro invece è La felicità ai miei piedi, dove troviamo appunto Marika, questa è una storia vera, parla della sua esperienza, dall'inizio dove gli hanno diagnosticato una trombosi venosa profonda e un'embolia pulmonare fino adesso e lei in pratica è andata contro vento e si è messa un paio di scarpe e ha iniziato a camminare. In questo libro parla anche della sua esperienza nel cammino di Santiago e lei la trovate qua su YouTube come MyLifeInTrack e anche su Instagram come MyLifeInTrack, quindi se volete potete andarla a seguire. E con questo concludo il video e ci vediamo al prossimo. Grazie.